Dopo gli over 80 toccherà al personale scolastico. E' questo il prossimo passo della tabella di marcia vaccinale nella regione Marche. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha deciso che dal lunedì 1 marzo spetterà a chi lavora tra i banchi alzare la manica della camicia e sottoporsi alla profilassi anti-covid. Sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 55 anni il Pfizer-BioNTech per le fasce d'età superiore. Da martedì comincerà invece la vaccinazione per forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate, personale civile di prefettura e questura e volontari di protezione civile. Una fase 2 della vaccinazione che si intersica al completamento della fase 1, quella che dopo l'immunizzazione del personale medico sanitario da 5 giorni ha aggiunto anche le inoculazioni alle persone di età superiore agli 80 anni. Over 80 che termineranno il secondo richiamo entro la fine di marzo, dopodiché ad aprile toccherà ai disabili e ai soggetti fragili. Dovranno invece aspettare maggio le persone di età compresa fra i 60 e gli 80 anni. Intanto per gli over 80 che non sono riusciti a prenotare il loro turno di vaccinazione arriva un aiuto in più dalle poste. Gli ultraottantenni possono infatti rivolgersi direttamente al loro postino o utilizzare uno dei 13 sportelli ATM Postamat presenti in regione.